E' stata inaugurata nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino la mostra Gli Ex Voto, arte popolare e comportamento devozionale, aperta al pubblico fino al 30 giugno. L'esposizione promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Morfologia Francesco Moiso è stata listita su Roll Up ed è destinata a diventare itinerante tra i comuni del Piemonte. Dopo l'inaugurazione al Circolo dei Lettori è stato presentato alla presenza del Vice Presidente del Consiglio regionale il volume omonimo che accompagna la mostra. E' un vero piacere per l'Università avere qui nel cortile del Palazzo del Rettorato la mostra degli Ex Voto raccolti in tutto il Piemonte. Gli Ex Voto fanno parte della nostra storia e uno dei compiti dell'Università è proprio quello di salvaguardare e diffondere la storia del territorio in cui è sita e quindi questo è il senso di avere questa mostra nel nostro palazzo.